Mi chiamo Davide Degli Esposti e mi sono laureato in Biotecnologie Industriali all'Università di Bologna nell'ottobre del 2000. Ho avuto un percorso atipico rispetto a molti colleghi. Ho lavorato nell'industria subito dopo la laurea e sono tornato alla ricerca dal 2003, occupandomi delle origini ambientali dei tumori all'Istituto della Nazione di Bologna. Nel 2007 sono partito per la Francia e quest'anno ho conseguito un dottorato in Fisiocatologia Molecolare occupandomi degli aspetti metabolici della cancerogenesi epatica. Ora sto preparando un progetto per studiare le alterazioni epigenetiche sempre nell'ambito della cancerogenesi epatica indotta da agenti ambientali. Il ritorno alla ricerca, in particolare non profit e mirata alla salvaguardia della salute pubblica, ha guidato e guida tuttora il mio percorso professionale. Chiedersi se quello che faccio è utile e ha un senso e il mantra che mi accompagna da dopo la laurea è quando la risposta è negativa e il motore per il cambiamento. L'AMBI è un grande network di ricercatori ormai internazionali. Sentitevi nodi di questa rete da cui si ricevono e partono impulsi creativi. Buon coraggio per i vostri progetti futuri. Ciao!